in bohème secondo me più che una difficoltà vocale sia una difficoltà interpretativa perché il personaggio deve evolvere ma evolve evolve nella malattia quindi nel dolore nella disperazione quindi parte da io la penso così una mimi una ragazza giovane non non in piena salute però comunque ancora ancora giovane con delle speranze dei sogni la difficoltà di bohème diciamo che sta nel terzo atto vocalmente ma anche interpretativamente parlando I agree with that because it's difficult for you as a woman or man even but in this specific story as a woman to not think about your life story about your pain about because we all were sick at the moment okay not that sick but we all had like a separation when we were young and we were like taking that differently and lots of times I was on stage remembering that those moments in my private life and he was so painful not to cry so at the same time you have to sing and I'm like no it's not about you it's good to bring those emotions so close but not as so close that you might not be able to sing and interpretar el rol es la parte más difícil vocalmente Puccini escribe super bien para la voz es como un bálsamo cantar mini después como dices tú Anita no llorar es una de las partes más difíciles de este rol porque incluso en el cuarto acto cada palabra y como la armonía está escrita es una forma tan trágica de exhibir a un personaje con decir sí sí perdona or saru buona perdona ahora seré buena hay tanto significado en esa frase a mí me destruye y cada vez incluso en el ensayo es así como voy a llorar voy a llorar I cannot choose one moment it's the entire opera it's it's perfect the way it is from start to the end it's a life story everyone in the public can identify with with this being young having big dreams then reality comes in and it hits you right in the face some friend or a lover dies or close family and it's it's life life compressed in two hours yo tengo que decir que si tengo una parte favorita cuando se toca el motivo de mimi la primera vez en la orquesta cuando ella para aparece la primera vez pidiéndole luz a rodolfo es la introducción más bella del mundo y yo o sea no sé ustedes pero sentir ese momento de tengo que entrar en el escenario y el tema empieza es muy emocionante ma per me si el terzo acto el dueto con marcello porque esco quasi sempre devastada dalle lacrime si quello per me il momento più più emozionante grazie cheers cheers salud salute aquí en momus si come bien si bebe si bebe bien necesitamos que nos traigan la langosta por allá